Un antico proverbio africano recita che un uomo che parla una lingua vale un uomo, un uomo che parla due lingue vale due uomini, un uomo che parla tre lingue vale tutta l'umanità. Il centro linguistico e culturale l'altra lingua dell'insegnante Aga Goroska è il posto giusto per corsi di lingua professionali e sciacca. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a Polonia Sciacca e l'apertura di questo centro linguistico e culturale. Come mai questa scelta di vita di trasferirti qui a Sciacca? Allora questo è stato sempre il mio sogno di realizzare, di aprire un centro linguistico. È stato un caso che sono venuta qua a Sciacca e mi sono trovata bene. Tre anni fa ho iniziato questa avventura. Questo centro linguistico prepara grazie a delle insegnanti madrelingua sia a corsi, fa lezioni sia individuali che in gruppo e anche per la preparazione per quanto riguarda invece la certificazione della lingua. Non solo l'inglese, giusto? Sì, non solo l'inglese, facciamo anche il tedesco perché io sono anche insegnante di tedesco, sono laurata in filologia tedesca. Qui arrivano non solo gli adulti ma anche tantissimi bambini. Sì, anche bambini. Già da tre anni facciamo lezioni ai bambini da tre anni, fino a dodici anni. E sempre organizziamo con i bambini soprattutto, facciamo tanti giochi, sempre parlano subito la lingua inglese con la madrelingua. E il tuo metodo utilizzato è quello comunque molto leggero e molto associato anche al gioco e al divertimento? Sì, giochiamo anche con i adulti, come avete visto anche con canzoni, con la musica, perché secondo me per imparare una lingua dobbiamo anche divertirci. Sì, così siamo anche più motivati e più divertenti. Oggi sappiamo quanto è importante il conoscere ed imparare una lingua straniera. soprattutto per quanto riguarda il mondo poi delle professioni, per il futuro, per la carriera. Sì, è molto importante. Io dico sempre che conoscere inglese è come aprire una porta, una porta per tutto il mondo. Anche da un punto di vista lavorativo, anche quando vogliamo viaggiare, conoscere altre persone, ormai inglese è una lingua internazionale. Non si può senza inglese. Un'altra particolarità del centro L'Altra Lingua è il fatto che gli insegnanti che arrivano qua a Madre Lingua, come abbiamo detto, cambiano sempre perché tu ospiti gli insegnanti che arrivano a Sciacca per vedere e conoscere la città, offrendo loro vitto e alloggio e in cambio loro impartiscono lezioni di lingua appunto dalle persone che si rivolgono a te. Sì, questo è anche molto bello e questo mi piace tantissimo perché stiamo creando qua a Sciacca un ambiente internazionale. Io ho ospitato insegnanti di Madre Lingua da diverse parti del mondo, Australia, Nuova Zelanda, e vengono proprio qua a Sciacca per insegnare inglese, non solo Inghilterra, come detto, Nuova Zelanda, Australia, Australia, Stati Uniti, Canada. Sì, loro imparano, vengono qua per imparare italiano e insegnano inglese. Un'altra particolarità del centro L'Altra Lingua è il fatto che si fa promotore di eventi culturali a Sciacca internazionali. Quali sono le iniziative e i progetti che portate avanti? Sì, allora questi insegnanti quando vengono fanno una presentazione nel proprio paese, portano le foto, parlano della vita in Australia, fanno vedere il posto, fanno sempre la presentazione. E poi anche abbiamo organizzato dei eventi, workshop su dialetti inglesi, dipende da dove vengono questi insegnanti, sempre portano qualcosa nel proprio posto. Sì, come un altro progetto c'è anche un scambio culturale, un scambio dei libri, un scambio internazionale dei libri, book crossing. Poi organizzi anche in diversi locali della città il Conversation Club. Che cosa consiste? Che tipo di serata è? Sì, questo è anche molto bello. Una volta a settimana ci vediamo sempre in un locale di Sciacca, e tutti sono benvenuti, possono venire e parlare, socializzare con un bicchiere di vino, con un bicchiere di birra, socializzare e conoscere meglio queste persone che vengono. Noi organizziamo anche giochi o karaoke in inglese. Maria, you've gotta see her Go in, say that out of your mind Regina, I'm in real